Abbiamo il mister Biagio De Domenico ancora con noi, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera, allora una vittoria davvero importante per la Paolana, ottenuta grazie al gol di Bertaina. Ecco, 1-0 ma contano i tre punti e contava soprattutto dare una risposta dopo il recupero. Sì, il gol è di Tutino comunque, per dovere di cronaca. Va bene, va bene, correggiamo. È stata una partita comunque difficile perché abbiamo affrontato una squadra molto forte, organizzata. Sapiamo che comunque sarebbe stata una partita di sacrificio, come lo è da un bel po' di tempo per noi. Purtroppo la situazione di classifica ci impone di essere pragmatici e quindi abbiamo fatto una partita molto ordinata dal punto di vista tattico, cercando di limitare quelle che comunque erano loro giocate. Abbiamo studiato in settimana l'avversario e sapevamo comunque quali erano i loro punti di forza, i loro punti deboli. Abbiamo cercato comunque di limitarli e di approfittarne. Però i ragazzi sono stati veramente molto forti mentalmente nell'avere una reazione dopo la sconfitta di Rende che comunque è stata immeritata perché comunque avviene su due nostre distrazioni, su due palle inattive. Quindi i ragazzi avevano veramente voglia di riscattare quella prestazione non all'altezza del momento dal punto di vista mentale. Sì, quindi c'è stata mancanza di concentrazione mercoledì. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo il primo, su una situazione che avevamo visto e rivisto, studiato e ristudiato. E' preparato e poi il secondo gol su una punizione nemmeno laterale, proprio da centrocampo, messa dentro. Praticamente la linea non si è mossa bene, l'effettiva non si è mossa bene. Praticamente abbiamo preso un gol sul secondo palo, su una palla rimessa dentro, su una palla lunga sul secondo palo che andava a spilare sulla rimessa dal fondo, però l'attaccante loro è stato molto bravo a crescere fino alla fine, a rimetterla dentro e a fare gol sulla nostra disattenzione. Abbiamo pagato comunque queste nostre mancanze di concentrazione mentale. e comunque non ci possiamo permettere perché comunque la classifica ci impone di essere sempre attaccati sul pezzo perché altrimenti diventa difficile poterci tirare fuori da questo momento. Vincenzo. Sì, buonasera, mister. Quattro giorni per preparare questa gara dopo questo brutto scivolone, infatti, contro il trend in casa perché se portavate al caso un risultato positivo ancora di più dava sostanza a questa classifica che la Paolani vuole risalire, che l'ha fatto negli ultimi anni, quasi sempre, spesso, per cercare di risalire. Ma è in casa che bisogna essere molto più concentrati? Sì, assolutamente. Io credo che in casa o fuori casa cambi molto perché comunque il momento ci vuole di essere. Adesso sì, però insomma in casa non bisogna lasciare nulla, ecco, è la media inglese. Esatto, deve essere un fortino. Naturalmente abbiamo approcciato questa partita come stiamo approcciando le ultime con intensità e con cattiveria agonistica perché comunque sappiamo che nessuno ci regala niente. Sono stati quattro giorni, tre giorni più la partita, molto importanti perché comunque anche dopo la partita volentieri ci siamo allenati. Abbiamo fatto allenamenti sia il giovedì che il verde e il sabato però la fortuna mia è di avere dei ragazzi che sono veramente applicati e la fortuna mia, e penso di qualsiasi altro allenatore, è quella di avere uno staff tecnico che mi affianca molto importante. E di avere questo Attilio Angottio che ha ripreso a segnare adesso con continuità. Assolutamente, sappiamo noi che dobbiamo mettere le condizioni a Tiglio di poter... Non ho oggi, veramente, però... Cosa? Mi scusi, non ho sentito? Non ho oggi. No, sono in viaggio a posto, non sento bene. E non le sto dicendo, comunque dobbiamo cercare di mettere in condizioni a Tiglio di poter ricevere un pallone giocabile perché noi sappiamo che per noi Attilio è un fattore determinante perché in aria di rigore è secondo me l'attaccante più forse della categoria. Lei sottolinea... In rigore di Tutino? Scusi, ho capito bene? Sì, sì, Tutino ha segnato, sì Matteo. Ah, bene, calcio d'angolo. Mister, giustamente lei dice che situazione è difficile comunque perché praticamente con questa vittoria innanzitutto avete lasciato giù anche l'isola Capo Rizzuto e coinvolto anche in questa lotta per la salvezza insieme a Scalea, Palmese, c'è lo stilo monasteraggio e appunto il gioioso Ionica. Poi arrivate voi con 14 punti e chiaramente risalire un attimino alla china e ottenere questi tre punti fa morale. Ecco, ma spera anche nella possibilità proprio di lasciare la zona play out con la sua squadra o non mi dica un passo alla volta perché lo so? No, io dico semplicemente che non guardo la classifica, ma sono un po' bugiardo, la sto guardando in realtà. No, però appunto puntiamo a fare più punti possibili. Poi nel campionato vediamo dove siamo arrivati. L'obiettivo naturalmente minimo è quello di raggiungere il play out in casa. Poi se riusciamo a uscirne da questo fango, da questa melma magari ben venga, però altrimenti cerchiamo di fare i più punti possibili perché obiettivamente la squadra con me ha iniziato con un po' di ritardo perché comunque sono arrivato il 22 di dicembre e comunque il tempo è veramente poco per quello che richiedo io, per quello che riguarda lo sviluppo dei principi di gioco miei ci vuole un po' di tempo. Sto cercando di fare il possibile anche di più con la collaborazione dei ragazzi che sono veramente disponibili, dei grandissimi lavoratori per poterci tirare fuori perché comunque è la volontà di tutti, società, staff tecnico e giocatori. Ne abbiamo bisogno di un po' di luce perché comunque ci fa aumentare la consapevolezza di essere una squadra che non meritavamo l'ultimo posto in classifica come eravamo la settimana scorsa, però ancora sappiamo che non abbia fatto nulla, quindi serve umiltà, testa bassa perché si può mollare solamente dopo l'ultima giornata di campionato. Bene, grazie mister, buonasera. Grazie a voi, buonasera.